Queste le notizie del pomeriggio. La decisione finale spetta a Roma ma riveste comunque la sua rilevanza, ben più che simbolica, la legge vota approvata all'Arse che appunta ad ampliare la giurisdizione degli uffici giudiziari di Sciacca, di cui presto potrebbero far parte anche i comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana. Questo è quanto ha stabilito la norma presentata a Sala d'Ercole dalla Commissione Parlamentare Affari Istituzionali. Primo firmatario della proposta è il capogruppo del PD Michele Catanzaro. Se il Ministero della Giustizia dovesse recepire questo documento, i comuni che afferiranno alla competenza territoriale del Tribunale di Sciacca diventerebbero 24. Si tratta in particolare di quattro comuni della provincia di Palermo che andrebbero ad aggiungersi alle trapanesi Gibellina, Partanna, Poggio Reale, Sala Paruta e Santa Ninfa, entrate a far parte del circondario più di dieci anni fa, ossia subito dopo la battaglia vinta dalla comunità per il mantenimento degli uffici giudiziari seccensi che, come è noto, rischiavano di essere soppressi. I consigli comunali dei comuni per i quali è stata approvata la legge a voto da tempo avevano manifestato la loro disponibilità a transitare sotto la giurisdizione del Tribunale di Sciacca con appositi documenti varati dai rispettivi consigli comunali. L'obiettivo di un ulteriore ampliamento delle competenze territoriali che da tempo viene perseguito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca, oggi preseduto da Carmela Bacino, dunque potrebbe presto diventare realtà. Dopo 25 anni hanno un nome mandante dell'omicidio del sindacalista siciliano della Will, Mico Geraci, ucciso con una raffica di colpi sparati da un fucile a pompa l'8 ottobre del 1998 a Caccamo, davanti al figlio e alla moglie. I carabinieri sul delega della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, hanno notificato in carcere un'ordinanza di custodia cautelare a boss di Trabbia, Pietro e Salvatore Rinella. Negli anni l'inchiesta sul delitto era stata archiviata e riaperta più volte. Pur puntando dal principio sulla pista mafiosa, le indagini non erano mai riuscite ad individuare né i mandanti negli autori materiali del delitto. La prima archiviazione risale al 2001, poi dopo le rivelazioni del pentito Nino Giuffre, ex capo del mandamento di Caccamo, si tornò ad indagare. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia però non trovarono riscontri. Nel 2006 ci fu una seconda archiviazione. Giuffre tuttavia aveva dato spunti preziosi, raccontando il contesto in cui si era maturato l'assassinio, attribuendo la decisione di eliminare il sindacalista impegnato in politica in prima linea nel denunciare gli interessi di Cosa Nostra al boss corleonese Bernardo Provenzano. L'ex amministratore giudiziario e avvocato Walter Virga è stato condannato per peculato a quattro anni e mezzo dai giudici del Tribunale di Palermo. Virga è stato anche dichiarato interdetto dai pubblici uffici e condannato a risarcire la parte civile e la società Nuova Sport Car difesa dall'avvocato Raffaele Bonsignore con 15 mila euro. Il collegio presiduto da Fabrizio Lacascia ha assolto gli altri imputati, l'ex deputato regionale Giuseppe Lupo, il commercialista e collaboratore di Virga, Giuseppe Rizzo, perché il fatto non sussiste non che Alessandro Garipoli Callinen per non aver commesso il fatto. La vicenda riguarda presunti illeciti commessi da Virga nominato amministratore giudiziario dalla ex presidente della sezione misure di prevenzione Silvana Saguto, poi condannata per corruzione irradiata dalla magistratura nella gestione di una serie di società sequestrate agli imprenditori Rappa, tra le quali la concessionaria Nuova Sport Car. Secondo la procura ci sarebbero state irregolarità nel pagamento dei compensi ad alcuni collaboratori di Virga nella vendita delle macchine della concessionaria, acquistate a prezzi di favore da amici e conoscenti dell'imputato. Al lupo si contestava invece il reato di corruzione, l'allora parlamentare per i PM avrebbe dato a Virga una consulenza di 2.000 euro in quattro mesi per redigere un disegno di legge sui beni confiscati in cambio di un contratto di collaborazione con TRM, emittente allora sequestrata ai Rappa e finita in amministrazione giudiziaria alla futura moglie, la giornalista Nadia Lamalfa. Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, associazione di volontariato ancora insieme per promuovere iniziative a favore del benessere psicofisico dei pazienti in cura oncologica presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Un nuovo frutto della strutturata sinergia fra associazionismo ed ente pubblico sarà l'iniziativa Avrò cura di te in programma lunedì prossimo 11 marzo alle 9 presso l'unità operativa complessa di oncologia dell'ospedale Agrigentino diretta dal dottor Antonino Savarino. Per l'occasione, grazie alla collaborazione dell'associazione Soli Ideali e di uno staff di parrucchiere ed estetiste volontari della stessa associazione, saranno dedicate attenzioni specifiche alle donne in terapia presso il reparto.